Il seminario di Brescia ha accolto lo scorso 8 dicembre circa un centinaio di adolescenti e giovani provenienti dalle parrocchie di origine e di servizio dei seminaristi per condividere la festa di Maria Immacolata, sua patrona. Il tema della giornata era Destinazione Paradiso 33, il riferimento è quello del 33esimo canto della Divina Commedia di Dante e lo scopo delle attività proposte era quello di giungere attraverso un cammino analogo a quello della vita all'amor che muove il sole e l'altre stelle. Gli ospiti sono giunti negli ambienti di via Razzi che trasformati nella Firenze del 1300. Dopo un momento di accoglienza con i seminaristi che si sono dilettati nelle arti di strada tra cui sbandieratori, musici e mangiafuoco, la festa è continuata nella vicina chiesa di San Bartolomeo dove il Vescovo Luciano ha celebrato la Santa Messa. Nella sua omelia Monsignor Monari ha chiesto di voler bene al seminario perché se vogliamo che la nostra vita prenda lo stile e la forma di Gesù abbiamo bisogno della parola e dello spirito e il seminario prepara dei ragazzi che annuncino la parola e celebrino i sacramenti come dono dello spirito. Questo significa che la Chiesa Bresciana crede ancora nel seminario cioè in quel luogo nel quale, in quel tempo durante il quale dei giovani si preparano per essere ministri, per essere presbiteri nelle nostre parrocchie. Quindi attraverso lo studio della teologia, attraverso la preghiera, la riflessione, la meditazione la costruzione di una personalità il più possibile completa essere pronti a guidare il popolo di Dio e quindi le nostre parrocchie all'incontro con il Signore Gesù.